ciao a tutti bentornati sul canale amo gli italiani dati aggiornati per michael schumacher il grande campione mondiale del gran premio continua a lottare la sua salute secondo gli ultimi aggiornamenti un grande campione lo è nella disciplina e nella vita michael schumacher continua la sua lotta estrema per rimettersi di nuovo in sesto le sue condizioni attuali sono spiegate dalla sua famiglia che non lo ha mai lasciato da solo tempo fa ebbe un terribile incidente sulla neve ricorrevano proprio i giorni delle festività natalizie quando il bravissimo pilota di formula 1 decise di trascorrere qualche tempo di relax a mary bell con tutta la sua famiglia michael si era portato in questa splendida cittadina dove sciare e rilassarsi un paio di sci scarponi e casco in testa schumacher si avvia verso una discesa ripida innevata fatta chissà quante volte e invece proprio quel 29 dicembre di nove anni fa un terribile destino lo attendeva al varco durante la sciata sulla neve da poco appoggiata il grande campione incappa in uno spuntone che gli farà fare un volo micidiale nel mentre atterra batte il capo sulla roccia e il pesco se ne esce la corsa in ospedale per i primi accertamenti ma la situazione si presenta alquanto grave un disperato tentativo di salvargli la vita e oggi il pilota è ancora tra noi riabilitazione e rimessa in sesto sono solo le mira dei dottori e della sua amata famiglia la moglie Corinna Batch lo ha sempre accudito nel corso di questi lunghi anni facendo in modo di non far mai trapelare troppo sui suoi potenziali istanti di ripresa nonostante una privacy custodita gelosamente sul marito la signora ha compreso l'ansia degli ammiratori e fatto capire che le condizioni del loro amato beniamino hanno un seguito costante queste sono le sue parole le condizioni di salute sono sempre le stesse e lui vive in modo diverso da prima anche se rimane presente nelle loro vite l'augurio al pluripremiato di formula 1 è quello di rimettersi al più presto anche se le possibilità sembrano remote e molto costose a detta di chi lo circonda grazie per aver guardato l'intero video metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità ci vediamo nei prossimi video grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video